Ripensare il neoliberismo. Lo stimolo arriva dal convegno nazionale dell'Associazione Italiana di Sociologia in corso al campus urbano dell'Università del Salento e che terminerà il 20 settembre dal tema emozioni e ragioni nella società neoliberista. Io credo che questo convegno in realtà sia andare oltre il neoliberismo e in qualche modo individuare in questi due elementi che sono sempre stati visti antitetici, emozioni e ragioni, in qualche modo una visione comune, convergente, che dia il senso di uno sviluppo ancorato a basi diverse del passato. Si parla di ambiente, salute, sport, diritto, religione. Docenti universitari affronteranno tematiche care alle nuove generazioni, fra cui forme di protesta, disagi e influenze dettate dal capitalismo neoliberista. Le emozioni tendiamo a vederle molto come un fatto privato, un fatto personale. In realtà hanno a che fare con la società, pensiamo all'industria della paura, ma pensiamo anche a emozioni come il piacere o il desiderio, che sono sicuramente orientate da politiche economiche, da scelte economiche. Il neoliberismo oggi si può ancora dividere tra il neoliberismo di destra e quello di sinistra. Non c'è più un neoliberismo marcatamente di destra o un neoliberismo più populista, libertario. In realtà è proprio connota il nostro vivere insieme, la nostra società. Centrale il tema del lavoro come valore. Se vogliamo il neoliberismo ha spinto moltissimo sull'idea che la tua identità è legata alla tua capacità di consumare più che alla tua identità professionale o di lavoratore. Adesso stiamo un po' pagando il prezzo di questa scelta. Lo vediamo dopo il Covid. Le persone non mettendo più al centro il lavoro stanno creando problemi alle imprese, che fanno fatica, per esempio in moltissime imprese, a conciliare le esigenze delle imprese con le aspettative dei giovani. Dunque il neoliberismo, che spesso fa rima con austerity, può divenire umano. Forse la società neoliberista ci ha mostrato il massimo delle sue potenzialità in positivo, ma forse c'è anche l'esigenza di pensare a una società differente, sostenibile, con una maggior giustizia sociale, cioè abbinare il tema della crescita economica e il tema dello sviluppo umano.